mister pioli come sta vivendo la vigilia del suo primo derby in rosso nero ma cosa volete che ne sa lui parlate con me di derby pioli va bene a lavare piatti milanello perché fondo illiot per adrizzare conti oltre a pionte che suso ha venduto anche sbattere però il pentolone lo lava laxalt se no cosa ce lo siamo ripresi a fare pronto parlo con mister pavel nedved ok si chi parla o io mi rocco rocco commisto mi sono calmato ok e vorrei offrirti un tè un tè distensivo e mai omo che è un tè un tè anche più di uno che va bene se si era veduto la raggiungo volentieri è permesso oh pavel nice to meet you accomodati sei pronto per questo tè prontissimo bene allora tè 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 ne vuoi ancora tè che volgaria noi della juve tutt'altro stile abbassato la cresta rocco mi ha raccontato tutto e sai cosa vi dico non provate a organizzare giorni estivi in united states altrimenti alzo muro e vi metto i tazzi capito che poi sono tazzi vostri ok quindi sareste venuti qui per il vostro peso quanto vorreste perdere perdere io cazomai è lui che deve perdere io no tu devi perdere no tu tu signor zang intanto che i nostri ragazzi fanno il testa a testa mi piazzerei qua di fianco a lei però se non si offende mi metterei la mascherina che mascherina lei recita in genere ammato gli alle sì buonanotte oh qua se viene per perdere peso ma qualcuno ha perso il portafoglio oh mica male io con questo ci faccio il mercato estivo grazie